L'Ogeta ha molto più orgoglio di me. Non si è comportato da principe pur di salvare i suoi cari. Oh, ed è per lo stesso motivo che tu sei diventato un dio? Sì, esatto. Non mi sento soddisfatto. Fin dei conti, non mi sono ancora messo a combattere in modo serio. Anch'io ero all'80% della mia forza. Allora, fai sul serio adesso? Fai sul serio! Non è bello divertirsi distruggendo tutto! È tornato ad essere un semplice Super Saiyan. Come mai? Ciao! Allora. Allora. . Grazie a tutti